Bene, allora riprendiamo con la seconda relazione del mattina con Dario Antiseri, la relazione dal titolo Le ragioni dell'individualismo metodologico. Dario Antiseri è già professore ordinario di metodologia delle scienze sociali dell'Università LUIS di Roma, amico personale e membro del comitato scientifico della Fondazione San Carlo di Modena. Prima di cedere a Dario la parola volevo semplicemente informarvi che per questione di carattere organizzativo logistico le due relazioni del pomeriggio saranno invertite, cioè la prima relazione sarà quella di Sebastiano Maffettone e successivamente per Paolo Portinaro che ringrazio anche per la sua disponibilità aver consentito l'inversione delle relazioni proprio per questione di carattere organizzativo. Bene, direi di passare subito alla parola a Dario Antiseri così dopo sviluppiamo la discussione facciamo venire anche Massimo Mori. Bene, grazie. Anche io ringrazio per l'invito anche perché circa 25 anni fa proprio Raimondo Cubetto organizzò un convegno proprio qui a Pisa proprio sulla metodologia di dualistica e ci fu appunto un grosso scontro in quei giorni. Tra noi appunto, ecco se Cubetto venisse dentro invece di parlare fuori dal giù. Vabbè, comunque ci fu questo, quindi è molto interessante appunto che dopo 25 anni si torni appunto a parlare di questo. Stavo raccontando Raimondo Cubetto che proprio 25 anni fa circa tu organizzaste un convegno sulla metodologia di dualistica con un po' di italiani e un po' di stranieri e lì ci fu appunto l'incontro, lo scontro e Luciano Pellicani ricorda quell'incontro, quel convegno in questo modo. Dice in un libro che poi facciamo poi insieme La disputa teorica che il lettore si trova davanti fu occasionata, diciamo così, da un seminario epistemologico organizzato da Raimondo Cubetto a Pisa durante il quale ebbe la sensazione di trovarmi in partibus infidelium, dice Luciano Pellicani. Non uno dei partecipanti, però i più economisti e filosofi manifestò il benché minimo dubbio sulla validità generale dell'approccio individualistico ai fenomeni sociali. E così va avanti. In realtà poi, con Luciano, qualcuno che sono d'accordo in tanti punti, su questo punto non eravamo d'accordo. Allora i ragazzi della Lucia ci chiedevano chi aveva ragione, se aveva ragione Luciano aveva ragione io. E quindi cosa facciamo? Facciamo un libro in modo tale appunto che i ragazzi potessero vedere le ragioni delle ragioni degli altri. Bene, sono anche contento perché vedendo appunto nel programma c'è Paolo Portinaro il quale parla della patologia dell'individualismo. Ora io, siccome vorrei fare un po' di fissiologia, poi vediamo appunto, ecco, l'incontro e lo scontro, come diceva Whitehead, uno scontro tra idee non è un dramma, è un'opportunità. Bene, allora io ho tanti appunti qua, ma poi leggerò qualcosa, leggerò e poi lo dirò però abbraccio, anche che sono un po' il cimurrido come le sentite. Allora, io non affronterò appunto il problema come hai fatto da un punto di vista di storia, delle idee, ma da un punto di vista puramente epistemologico. Cioè, come si pone il problema dell'individualismo in campo epistemologico? Si pone in questo modo. Noi, sia nelle scienze sociali, in sociografia, in economia, in campo del diritto, in campo della politologia, usiamo continuamente, traffichiamo con concetti come partito, classe, popolo, nazione, pubblica amministrazione e cose del genere. Bene, la domanda di fondo che ci si pone in epistemologia è la seguente, che cosa corrisponde nella effettiva realtà a questi concetti collettivi? Perché è evidente che se questi concetti, questo potete capire, è il vecchio problema filosofico degli universali, no? Se questi concetti collettivi appunto corrispondono a realtà effettive, è chiaro che l'individuo appunto scompare. c'è l'altra proposta invece che dice appunto che questi concetti collettivi, questi come diceva Weber, collettivi e griffi sono semplicemente dei fiato della voce, sono puri nomi, sono appunto ecostinogrammi per individui e azioni di individui. Ora, chi sono questi, alcuni vorrei proporvi alcune idee di questi individualisti. Comincio con Karl Menger, Karl Menger il capo della scuola sociale dell'economia, voi sapete, diciamo così, fondatore, la collettività come tale, dice Menger, non è un oggetto in grande che ha bisogno di lavora, traffica e concorre. Quella che si dice economia sociale non è quindi l'attività economica di una società nel senso proprio della parola. L'economia sociale non è un fenomeno analogo alle economie individuali, qui appartiene anche l'economia finanziaria, non è una cosa che si contrapponga o sussista accanto alle economie individuali. Nella sua forma fenomenica più generale, essa è una moltiplicità tutta peculiare di economie individuali. Questo dicevo Menger, lascio altre cose e vengo ad un altro grande esponente appunto delle scienze sociali, a Max Weber. Weber scrive, se sono alla fine diventato sociologo è soprattutto per mettere un punto conclusivo a questi esercizi basati sui concetti collettivi, il cui spettro è sempre inaguato. In altri termini la sociologia non può procedere che dalle azioni di un singolo individuo, di alcuni individui o di numerosi singoli individui. E' questo il motivo per cui essa deve adottare dei metodi strettamente individualistici. E' solo per metafora, dice Weber, che i concetti quali volontà, coscienza o psicologia vengono applicati a soggetti non individuali. Di conseguenza, afferma Weber, la sociologia comprendente deve guardare all'individuo singolo e al suo agire come al proprio atomo, tal che concetti come stato, associazione, feudalissimo e simili vengono a disegnare per la sociologia in generale categorie di tipi determinati di agire umano in società. Ed è pertanto suo compito quello di riportare all'agire intelligibile e cioè senza eccezione all'agire degli individui partecipanti. Io potrei seguitare, ma sono cose che voi appunto conoscete. Da Weber a Simmel. E' un'illusione, dice Simmel, perniciosa, quella per cui allorché si osserva l'evoluzione del diritto di altre istituzioni sociali, si giunge a pensare alla società come ad un essere impersonale, autonomo dagli individui e che si pone di fronte alla particolarità come qualcosa che le domina e che non dipende dalle stesse condizioni della vita individuale. La società, dice Simmel, non può venire considerata come una sostanza concepita per se stessa. Senza individui, in interazione, non c'è nessuna società. E vengo a un allievo appunto, ma come lo di Menger, cioè a Ludwig von Mises. Il corso della storia a scrivere Mises nell'azione umana è determinato dall'azione degli individui e degli effetti di queste azioni. Per Mises solo l'individuo pensa, solo l'individuo ragiona, solo l'individuo agisce. Di conseguenza, gli afferma, per gli scopi della scienza noi dobbiamo partire dall'azione dell'individuo, poiché essa è la sola cosa della quale noi possiamo avere cognizione diretta. L'idea di una società che opererebbe, sì, o si manifesterebbe indipendentemente dall'azione degli individui è assurda. Qualsiasi fenomeno sociale deve in qualche modo essere riconoscibile nell'azione degli individui. Che uno in me sia membro di una società di mercato, o un compagno di partito, o un cittadino, o un membro di qualsiasi altre associazioni deve dimostrarsi attraverso la sua azione. La scienza, afferma Mises, deve avere la sua base nell'esperienza e l'esperienza non ci fa vedere cose come la società o una nazione. L'esperienza ci fa conoscere sempre individui, ci fa ascoltare le loro parole e vedere le loro azioni. E potrei eseguitare appunto con concessioni del genere di Mises. Da Mises appunto ad Hayek. Caratteristica del collettivismo metodologico, scrive Hayek, è la sua tendenza a trattare certi insiemi quali società o economia o capitalismo, o una particolare industria o classe o nazione come oggetti dati in se stesso compiuti. Le cui leggi possiamo scoprire osservando il loro comportamento come insiemi. Si fatta diffusa e radicata posizione filosofica trova sua scaturigine nel fatto che l'esistenza nell'uso corrente di termini come società o economia è ingenualmente considerato come prova evidente dell'effettiva esistenza di determinati oggetti che a quei termini concretamente corrispondono. Il fatto che tutti parlino di nazione o di capitalismo porta a credere che il primo passo nello studio di quei fenomeni debba consistere nell'andarne a verificare nell'aspetto esattamente come si comporterebbe nei confronti di una certa roccia o di un certo animale. Ecco, dice appunto Weber, l'errore implicito in questo approccio collettivistico consiste nel considerare alla stregua dei fatti quelle che non sono altro che teorie provvisorie, modelli costruiti dalla mente ingenua per spiegarsi la connessione tale come fatti quelle, la connessione esistente tra alcuni dei fenomeni singoli che noi osserviamo e possiamo andare avanti. E dopo Weber, dopo appunto Hayek e Popper, nel primo rumore della società aperta, Popper pone l'attenzione dei lettori, ecco Sebastiano, dice individualismo si contrappone a collettivismo, ecco individualismo si contrappone a collettivismo, egoismo si contrappone all'atruismo, quindi non è che l'individualismo si contrappone appunto all'attruismo, al collettivismo, quindi quella è un sicuramente semantico che tu dicevi prima, ecco si rivede qua, benissimo. E Popper commenta. Collettivismo non si contrappone all'egoismo e non si identifica con altruismo o generosità. L'egoismo collettivo di gruppo, per esempio l'egoismo di classe, è cosa comunissima e ciò dimostra con sufficiente chiarezza che il collettivismo in quanto tale non si contrappone all'egoismo. L'individualismo è piuttosto quella concezione filosofica che si contrappone al collettivismo, dice Popper, e non all'atruismo. L'individualismo sostiene che ad esistere sono soltanto gli individui. Questi possono essere sia egoisti che atruisti. Ciò che invece non esiste è la società, allora che la si concepisca come un'entità indipendente, precedente e adottoroma degli individui. Vorrei inoltre soggiungere, dice Popper, in un'intervista di pochi anni, non molti anni fa, che parlare di società è estremamente forviante. Naturalmente si può usare un concetto come una società o d'ordine sociale, ma non dobbiamo dimenticare che se si tratta solo di concetti ausiliari, ciò che esiste veramente sono gli uomini, quelli buoni e quelli cattivi. Speriamo non siano troppi questi ultimi, comunque di essere umani, in parte domatici, critici, prigri, diligenti o altro. Questo è ciò che davvero esiste. Esistono gli uomini che hanno idee e agiscono in base a queste idee, producendo colorazioni, conseguenze intenzionali e conseguenze, poi vedremo appunto in intenzionali. Sono gli uomini che esistono, ma ciò che non esiste è la società. La gente crede invece alla sua esistenza e di conseguenza dà la colpa di tutto alla società o all'ordine sociale. Ecco, dice Popper, uno dei peggiori sbagli è credere che una cosa stratta sia concreta. Si tratta della peggiore delle ideologie. Raimondo Gubedio, se non mi senti poi non mi può criticare. Allora, detto questo, andiamo avanti, diciamo, potrei andare avanti con molti esempi, ma sto cercando di portare esempi individualisti che vengono l'economia, ecco, la sociologia, la filosofia. Veniamo adesso, pensiamo adesso, Bastia, per esempio, che scrive, abbiamo difficoltà a capire ciò che viene disegnato con la parola Stato. Crediamo che in questa costante personificazione dello Stato ci sia la più strana, la più umiliante delle mistificazioni. Luigi Sturzo. La mia posizione è netta. Contro i sociologisti della Durkheim, che fanno della società un'entità per sé stante, contro gli istituzionalisti che fanno delle istituzioni un'entità per sé stante, contro gli organicisti di tutti i tempi che fanno degli organismi sociali delle entità per sé stanti. Io sostengo che la società, in concreto, è la coesistenza degli individui cooperanti coscientemente per un fine comune e che né la società né le istituzioni o i suoi organi sono un qui de terzium, un'imposta se vivente, una realtà distinta dalla realtà degli individui associati ed operanti ad un fine comune. Chi agisce e chi patisce sono gli individui associati. Norberto Bobbio. Eliminate una concezione individualista della società, non riuscirete più a giustificare la democrazia come fonte di governo. Adesso qui ci sono forti altri passi, ma per esempio di Matteucci, per esempio. Siccome c'è Raimondo Gubendo, si ricorderà che a Roma qualche anno fa, non molti anni fa, venne attaccato Croce. Croce... Aspetta, aspetta. No, no, possiamo litigare. Un contrasto tra le idee, non è un dramma, un'opportunità. Perché? Croce è un idealista, l'individuo non esiste. Non posso dire questo, fu un altro dotto italiano. Allora, è che io penso che Croce va letto un po' tutto, diciamo, perché per 60 anni e più ha pensato. Quindi, ecco, leggere un saggio del 1903 e dire Croce è questo. Ecco, io sarei più capo dal punto di vista stereografico. Ecco, poi dirò qualcosa sulla sociografia anche. Bene. Vice Croce, in un saggio intitolato, tutti lo conoscete, la concezione delle classi come entità reali. Ormai da un secolo, ma segnalamente negli ultimi 50 anni, il mondo sembra invaso, agitato, sessionato, spaurito da una furia di fantasmi, da una cavalcata di diavoli o che si chiamano le classi sociali. Autore responsabile principale è Carlo Marx, circa il quale il rigoroso pensiero critico dovrebbe recogliere in modo definitivo la conclusione che gli era bensì un semitico profeta di rivoluzioni e un possente impulsore di moti sociali. Ma privo di il vigoroso genio filosofico e scientifico e che è genio della verità. Sì che mandò in giro, in filosofia, non meno che in economia, una serie di concetti mostricciattoli, dal materialismo storico con la teoria delle sovrascrutture a quello del plus valore nella produzione economica. E così va avanti. Ma andiamo avanti, vorrei leggere il punto che mi interessa di più. Dice appunto, ecco sempre Croce, assai più grave perché più direttamente dannosa che noi nel campo teorico e storico è la persistenza a concepire e porre problemi politici e morali non secondo gli uomini agenti e le opere loro, non secondo i fini eterni dell'umanità, ma secondo lo schema tra le classi o masse o come si chiama, è la visione meccanica che ne consegue. Onde invece di volgere tutte le forze delle menti e dei cuori a cercare e procurare quello che di volta in volta concorre in alzare gli uomini a vita più umana, si domanda quel che le masse chiedono o quel che le masse vogliono e si indaga il gioco meccanico che dovrà produrre questo o quell'effetto. E così va avanti. Che le masse o le classi siano astrazioni e perciò incapaci di pensare e operare. E tanto più di ben pensare e di operare il bene come solo si può da chi raccoglie in sé la concretezza dell'umanità, dall'individuo non par che si sospetti neppure e con curiosa traslazione alle classi e alle masse si prestano i pensieri e la volontà stesse dei demagoghi che sarrogano di parlare, di vedere il loro nome e così di seguito. Ecco, poi ci sarebbero altri autori interessanti, per esempio avevo segnato alcune cose di Bruno Leoni, ma qui rimando al bel libro di Masala su Bruno Leoni, che c'è il capitolo sull'amendogenidualistica appunto, e quindi se vogliono sapere delle cose, quasi le sanno. Ecco, invece abbiamo visto appunto economisti, sociologi, filosofi eccetera, vorrei toccare adesso una cosa che ci interessa molto di più come storia, cioè vedere Salvemini. Salvemini, nella prefazione alla rivoluzione francese 88-92, afferma che l'uso del termine rivoluzione francese ci consente di richiamare alla memoria l'immagine complessiva degli avvenimenti senza dover, volta per volta, ripetere l'enumerazione particolareggiata. Il guaio però, dice Salvemini, sta nel fatto che l'uso dei nomi, cito, personali e concreti, ci ha a suo fatto avvenire dietro ad ogni nome un'entità reale, che noi finiamo molto spesso con personificare anche i nomi collettivi e astratti. E allo stesso modo che pensiamo alla malattia come un'entità concreta esistente al di fuori dell'individuo, così trattiamo la rivoluzione come qualcosa di esistente all'infuori e al di solo degli uomini che vissero nel periodo rivoluzionario. Si è insomma propensi a vedere dietro ai nomi collettivi delle cose specifiche. I concetti vengono reificati, trasformati in res, in cose. E allora, come diciamo che la malattia ha ucciso l'ammalato, mentre in realtà è l'ammalato che è morto, presentando certi sintomi morbosi, così diciamo che la rivoluzione ha distrutto i dritti feudali, ha proclamato i dritti dell'uomo, ha dronizzato Luigi XVI. La verità, dice Salvemini, è che la rivoluzione non ha fatto mai nulla di tutto questo. E ciò per la ragione che essa altro non è, se non un termine collettivo astratto, mediante il quale noi denominiamo con grande risparmio di tempo i nuovi rispogliati dai plebei, dai diritti feudali, i plebei proclamanti i diritti dell'uomo, il rivestituito da ogni autorità e tutti gli altri avvenimenti del periodo rivoluzionario. Allora, adesso io potrei seguitare con Boudon, eccetera, eccetera. Tralascio appunto, tralascio, ecco, quello che volevo dire è questo, che quando noi affrontiamo il problema metodologico nelle scienze sociali, ecco, c'è un problema, il primo problema è un problema ontologico, che cosa corrisponde nell'effettiva realtà a questi concetti che noi siamo, con cui traffichiamo di continuo, noi altri, va bene nel diritto, in economia, nella storiografia, in politologia, nella vita quotidiana, diciamo, ecco, il problema è ontologico, che cosa corrisponde nell'effettiva realtà a questi concetti collettivi. Ora, questi noi si sostengono che a questi concetti collettivi non corrisponde assolutamente niente di specifico, ecco, e di diverso dagli individui che compongono questi gruppi, diciamo così. Per cui non c'è il partito, ci sono alcune persone che hanno alcune idee date da altri e che agiscono in base a queste idee, diciamo così, e questo si chiama partito, diciamo così, no? Ma voi capite che se io dico c'è la Chiesa, il partito, il sindacato, se io ti dico, guarda che il sindacato ti ha espulso, il partito ti ha espulso, la ragione di Stato, cioè, in realtà, non c'è, c'è la ragione di questo, l'altro individuo. Io sono abbastanza avanti negli anni e una volta, parlando con la Pira, appunto, eravamo con Massimo Battini, con l'amici, con la Pira a Firenze, noi l'accusavamo di essere statalista e lui disse, parlava e poi disse, ah, dice, lo Stato etico, cos'è lo Stato etico? È uno stupido ministro che firma, disse, appunto, la Pira era un gruppettino. Ecco, voglio dire, quindi è un problema oggettivo, è un problema ontologico, che a questi concetti collettivi, ecco, non risponde niente di reale, perché ciò che esiste sono gli individui che pensano, ragionano, agiscono. Ecco, qui ci starebbe da fare una distinzione fatta da Hayek, tra gli individualisti veri e quelli falsi. Ecco, veri, adesso non vi leggo perché il tempo passa, gli individualisti, appunto, veri sono gli individualisti della tradizione inglese, diciamo, inglese, che sono coscienti dei limiti della ragione umana, poi vedremo perché, sono per i corpi spontanei, appunto, corpi spontanei per la famiglia, dice lui perché? Perché eliminato dalla famiglia resta lo Stato, quindi pensate bene, e quindi, ma ecco, la cosa importante, dice Hayek, che l'individuista vero, ecco, è cosciente della sua fallibilità e c'è di più, è consapevole dell'ignoranza. Cioè, guardate bene, noi non dobbiamo, come dice Hayek, confondere la fallibilità con l'ignoranza. Noi quando conosciamo siamo fallibili, tutte le nostre conoscenze, ve lo sapete meglio di me, ecco, sono sempre sotto assedio, anche la teoria più consolidata, meglio consolidata, ecco, prima o poi, diciamo così, ecco, speriamo che venga smentita. Ma dice Hayek che, oltre che fallibili, noi lo conosciamo, noi siamo ignoranti. Cioè, siamo ignoranti soprattutto di quelle conoscenze, di situazioni particolari, di tempo e di luogo, che servono veramente a risolvere i problemi. Per cui dice Hayek che, guardate bene, su questo teorema dell'ignoranza, Hayek ha preso il premio Nobel. Perché qual è la ragione che porta a lui? Lui dice che esiste, sarà migliore una società che potrà soffrire, ecco, delle conoscenze, della conoscenza. Ora esistono queste conoscenze, dipendo, di situazioni particolari, di tempo e di luogo, che sono disperse necessariamente tra milioni e milioni di uomini, conoscenze all'istante non centralizzabili e che possono essere usate soltanto se le decisioni vengono prese, diciamo così, ecco, localmente e non centralmente. Era un altro argomento contro la verificazione centralizzata, diciamo, no? Quindi, ecco, questa è la distinzione. Ora, vengo alla cosa che ci interessa forse di più. Perché? Perché, evidentemente, se a esistere pensare ed agire sono solo gli individui, ecco, vediamo cosa succede parlando di azione umana, e quindi di interazione umana. Interazione. diceva William Barclay, dice, io da Popper ho appreso che quando dico una cosa non so propriamente che cosa dico. Ed hai ecco appreso che quando faccio una cosa non so propriamente che cosa faccio. Per quale ragione? Perché la cascata di conseguenze di una teoria scientifica è infinita, diciamo così. Quindi, siccome i controlli effettivi di una teoria ad ogni tempo t sono sempre di numero limitato, io non so effettivamente ecco cosa la teoria... Probabilmente, diceva Barclay, no? Da Popper ho appreso che quando dico qualcosa non so propriamente che cosa dico. E da ecco appreso che quando faccio qualcosa non so propriamente che cosa faccio. Andorragamente, le conseguenze di un'azione. Allora, vediamo che cosa succede. Voi sapete che il proverbio dice appunto, i proverbio dicono appunto ci insegnano che l'uomo propone e Dio dispone che pifferi di montagna andarono a personare e furono sonati che di buona intenzione sono astrigate le vie dell'inferno e che André Uccio da Perugia andò per gabbare e fu gabbato. Allora, noi vediamo una cosa che colpisce e che ha colpito appunto economisti, filosofi, diciamo scrittori è questo fatto che noi facciamo delle cose ecco, progettiamo qualche cosa e cosa capita? Capita che otteniamo spesso l'opposto o addirittura otteniamo anche quello che abbiamo progettato ma in modo diverso quello è qualcos'altro. Cioè, ecco, si dice appunto vediamo che le azioni umane intenzionali per quelle ragioni logiche che vi dicevo prima ragioni logiche che vi dicevo prima ecco, hanno conseguenze e producono conseguenze inintenzionali. Allora siccome puoi essere chiaro vorrei portare un po' di esempi poi le vorrei portare appunto un po' di esempi che non avevo eccoli qua allora parto da Menger Mises dice che la spiegazione che Menger dà dell'origine della moneta è una spiegazione ormai classica ecco, dice appunto scrive appunto Menger l'idea che una merce una cosa importante guardate bene la moneta non è una cosa ecco che una merce diventi moneta a dobra di un'esplicita convenzione stabiliamo o di un atto legislativo non è opinione fondamentalmente falsa giacché la storia ci offre di fatto degli esempi di determinate merci di grata e moneta da una legge il caso dell'euro è un caso tipico diciamo così tuttavia far notare Menger non si deve dimenticare che nella maggioranza dei casi la deliberazione legislativa notoriamente determinò non già la qualifica di moneta donata da merce ma il riconoscimento ufficiale come moneta di una merce che è già serviva come tale e ogni modo la spiegazione pragmatistica dell'origine di quell'istituto sociale che è la moneta non riesce in tutti quei rilevanti casi in cui la moneta non è palestemente il risultato di un'attività legislativa ma è sorta dei rapporti economici stessi senza interventi legislativi spontaneamente o come altri si esprime dicendo che punto organicamente ed ecco le linee sarò breve argomentative attraverso le quali Menger spiega il fenomeno dell'origine della moneta finché presso un popolo domina il simbio invece il commercio di scambio economia di baratto ogni individuo cerca di scambiare i beni superflui con quelli di cui ha immediato bisogno e rifiuta quei beni di cui non ha bisogno ovvero dei quali è ben fornito ora però perché l'individuo che porta al mercato le sue merci superflue possa scambiare queste sue merci superflue con i beni desiderati deve non soltanto trovare qualcuno che richieda le merci che gli offre ma contemporaneamente anche l'altro che offre le merci che gli desidera ma questa è appunto la circostanza che non ha regime di puro scambio oppure tante difficoltà al traffico e lo serra nei libri di angusti cioè è baratto è una cosa difficile diciamo quando si blocca blocca completamente lo scambio ora come avviene come viare dice Menger a si fatto inconveniente così dannoso allo scambio quale efficacia dei meglio si potrebbe adesso sopporre ognuno potrebbe facilmente osservare gli scrive da sé che tra i loro merci e precisamente quelle che risponderono a bisogni molto generali erano domandate più di altre e che perciò portando al mercato queste e non altre merci meno agevolmente vendibili più facilmente riusciva a trovare proprio tra coloro che domandavano queste merci coloro che offrivano le merci dei che desiderate così per esempio in una popolazione nomade ognuno sa in basso alla propria esperienza che portando al mercato bestiame anziché altre merci che abbiano più rispetto al giro di compratori è più facile trovare tra i tanti che sono disposti a fare l'acquisto coloro che offrono le merci di cui c'è desiderio di conseguenza doveva sorgere l'idea in chi portava al mercato dei beni meno agevolmente vendibili di dare questi beni in cambio non soltanto di quelle merci di cui appunto aveva bisogno ma ove questo scopo non fosse direttamente raggiungibile anche di altre merci di cui in vero non aveva stesso bisogno ma che erano però più smerciabili delle sue in questo modo egli non conseguiva direttamente il risultato dell'operazione economica che si proponeva ma si avvicinava considerevolmente così dice Menger l'interesse economico porta i singoli attori economici con una maggiore conoscenza del loro interesse individuale senza qualsiasi accordo senza coazione legislativa anzi addirittura senza alcun riguardo verso l'interesse pubblico a scambiare le merci proprio con altre aventi un mercato più vasto anche se di questo non hanno più immediato bisogno e tra queste merci saranno preferite quelle che sono poi più adatte a servire alla funzione di mezzo di scambio nel modo più comodo ed economico è chiaro che se io porto sul mercato una pecora è chiaro la pecora ti dà la lana il latte l'agnello cammina per terra non c'è bisogno che tu la porti su cosa diciamo così quindi io scambio la pecora e prendola e quindi domani potrò portare la pecora e potrò avere quello che mi serve quindi ecco dice Menger senza un progetto senza una legge senza un parlamento ecco sorge spontaneamente appunto ecco una merce tra le altre cioè un oggetto diventa merce e merce di scambio pecunia da pecus Menger va avanti ancora e parla appunto della formazione di nuove località dice sì certo nelle colonie vengono fatte città programmate diciamo così ma noi vediamo appunto che molte città nascono perché perché appunto va lì il primo contadino poi il primo mercante e così dice ecco poi il maestro e vengono fuori queste città che crescono appunto così spontaneamente l'origine dello Stato se voi leggete quello che ha scritto in Menger sull'origine dello Stato e poi ecco noti che è la stessa cosa sembrano pagine copiate sembrano no no perché non voglio dire uno legge sullo Stato Minimo legge queste cose qua io se vuoi Raimondo queste cose te le leggo se vuoi va bene no appunto non voglio non voglio va bene sì allora vengo ad altri esempi rapidamente qui poi dei esempi tra con la morale diciamo ecco allora è di Max Weber voi sapete la tessi anche che lui poi stesso diceva non dottridaria guardate bene cito che a creare un'etica capitalistica non certo intenzionalmente dice Weber fu soltanto l'ascese intramondana del protestantesimo che ha perso la via degli affari agli elementi più devoti e rigoristici in sede etica indicando loro il successo nella vita degli affari come un frutto di una condotta razionale della vita e questo è un caso adesso non discutiamo tutta la cosa che vuole dopo ma insomma è Weber appunto in questo testo appunto è l'esempio classico di una conseguenza intenzionale di azione intenzionale vogliono la certitudine saluti se scoprono appunto la vita capitalista diciamo così Popper se una persona desidera comprare urgentemente una casa in un certo quartiere possiamo sicuramente supporre che egli non intende elevare il prezzo del mercato delle case di quel quartiere ma il fatto stesso che egli si presenti su un mercato come acquirente tendrà a far aumentare il prezzo quindi ecco intendo una cosa ecco diciamo così non intenderò e la ottengo e mi capita appunto quindi in questo caso è una conseguenza in intenzionale prevedibile in questo caso perché esistono conseguenze in intenzionale prevedibile e imprevedibile l'una e le altre piacevole o spiacevole secondo le case bene com'è che nella giungla ha origine un sentiero degli animali alcuni animali irrompono una streppaglia del sottobosco per trovare un posto dove abbevearsi altri animali trovano poi molto facile usare la stessa traccia e così tale traccia viene attraverso l'uso allargata e migliorata essa non viene programmata è una conseguenza non intenzionale del bisogno di muoversi con facilità e rapidità questo è il modo in cui ha origine un sentiero forse anche presso gli uomini e il modo in cui il linguaggio e qualsiasi altra istituzione può sorgere tra che dice Popper non sono né pianificate né volute tali cose non sono né pianificate né volute e forse di essi non c'era necessità prima che venisse la resistenza ma essi possono creare un nuovo bisogno o un nuovo insieme di fini Popper dunque ha descritto come nasce un sentiero di una streppaglia del sottobosco ed ecco come Hayek descrive il modo in cui presso gli uomini si formano i sentieri di una zona disabitata in principio ciascuno cerca di proprio conto quello che ritiene di tracciato migliore ma per il semplice fatto di essere già stato percorso una volta un sentiero risulta prossimamente più facile da percorrere e quindi diventa più probabile l'ulteriore sua utilizzazione e così gradualmente emergono percorsi da tracciato sempre più netto che finiscono con l'essere utilizzati in luogo di altri percorsi possibili i movimenti umani in cui la zona tendono a conformarsi a un ben definito modello che benché sia il risultato di decisioni prese da un certo numero di persone non è stato tuttavia coscientemente progettato da nessuno questa spiegazione di ciò che è avvenuto in quel dato costituisce un'elementare teoria dice Hayek applicabile a centinaia di casi concreti della vita e poi sempre Hayek che almeno il linguaggio rappresenta un insieme ordinato senza essere il risultato di alcun disegno preordinato è verità ovvia che neppure essi più accessi costituttivisti per sezionare nazionalisti scientisti osano mettere in dubbio noi non possiamo immaginare che i nostri antenati si staccano dalla pianta e dicono o per bacco mettiamoci insieme domani e inventiamo l'aramaico o la sintassi o la sintassi greca cioè voi capite è impossibile che almeno il linguaggio lì dovete sbattere tutti ma visto che siamo tra filosofi vorrei portare un esempio di epistemologia prendiamo il caso di Kuhn quando descrive la scienza normale e la comparsa delle romalie lo scienziato normale è uno scienziato che ha abbracciato un paradigma una maxiteoria di cui lui ha fiducia e cosa fa lo scienziato normale lo scienziato normale è come il clinico come l'ingegnere non mette in dubbio la teoria anzi se c'è qualcosa che non funziona lo scarta non lo vede diciamo così non cerca la novità però cosa c'è non la cerca non intendi cercare la novità lo scienziato normale anzi sarebbe grave perché se tu vai in clinica e il medico cerca la novità io avrei un po' paura in ogni caso voglio dire ecco lo scienziato normale non cerca la novità non la vede se la vede la scarta però la crea e perché la crea perché rendendo più corretti più specifici i concetti applicando la teoria in altri ambiti dove la teoria non è stata applicata inizialmente creando strumenti di misura più perfetti più esatti aumenta il contenuto della teoria e quindi mandato il contenuto la espone alla falsificazione quindi scienziato normale non cerca la novità ma la crea come quando voi conoscete tutti i grossi tutti sarebbero passati per il muro torto e cosa capita uno vuole andare a piazza del popolo vuole andare a piazza del popolo perché c'è un comizio un altro vuole prendere un gelato un altro vuole andare a San Pietro un altro vuole andare a San Pietro un altro vuole incontrare una persona nessuno guardate bene ecco intende creare l'ingorgo ma per il fatto che tutti vanno lì creano l'ingorgo non lo vuoi ma lo crei allora adesso non c'è più la stazione dei termini non c'è più appunto quella cosa triste che facevi la figlia a prendere il biglietto e veniva la zingara poi veniva la figlia della zingara poi la zingara e insomma cosa succedeva? erano fastidi questi cosa voleva la zingara? la zingara voleva svernare no? tu passare di ciò aveva un giro di spagno e guardate bene cosa succedeva? io l'ho visto quando la zingara aveva soldi moni da abbastanza andava dal primo bigliettaio gli dava i soldi di moneta e prendeva la carta moneta e cosa capitava? la zingara ecco svernava la giornata e io cittadino che non rischiavo più di fare la fila e di essere respinto dal bigliettaio perché appunto non c'aveva resta da darmi quindi eravamo a posto la zingara e io cittadino che appunto viaggiavo conseguenze gli intenzionali è stata citata appunto la favola delle api ancora due tre esempi poi trago la morale quanto tempo mi dai ancora? dieci minuti allora storici Machiavelli dice Machiavelli nel primo libro dei discorsi sulla prima decada di Dio Livio io dico che coloro che danno i tumulti tra i nobili e la plebe mi pare che biasimino quelle cose che furono prima causa di tenere libero la Roma e che considerano più ai rumori e alle grida che di tali tumulti nascevano che ai buoni effetti che quelli partorivano la realtà sottolinea Machiavelli è che le buone leggi nascono da quelli tumulti che molti inconsapevolmente dannano Paolo Sarpi proprio all'inizio della storia del Concilio di Trento scrive impero che questo Concilio desiderato e procurato dagli uomini per riunire la Chiesa che principiava a dividersi per contrario ha così stabilito lo scisma e ostinate le parti che ha fatto le discordie appunto irriconciliabili io potrei dire Vico c'era poi visto che canti l'hai richiamato tu non però c'erano altri altri esempi ma adesso lascio via perché perché da questi esempi credo che sia interessante ecco tirare fuori una morale proprio epistemologica perché i problemi che siamo opposti è questo qual è l'oggetto appunto delle scienze sociali e poi qual è il metodo delle scienze sociali allora l'oggetto delle scienze sociali appunto ecco sono gli individui che pensano ragionano agiscono e che le loro azioni ecco tirano fuori conseguenze intenzionali e conseguenze inintenzionali diciamo così ora tutto l'esempio che ho portato io diciamo così potrebbero essere riassunti diciamo così nella nella di fondo della favola delle api cioè questa paradossale favola è stata una scoperta ma scoperta in che senso scoperta appunto dove si è visto che i vizi privati possono produrre possono produrre appunto pubblici benefici diciamolo ecco ora diceva Krauss che un paradosso o è mezza verità o una verità è mezza ora il paradosso della favola delle api non sarà una verità è mezza ma è una mezza verità molto importante e perché è molto importante perché innanzitutto distrugge guardate bene distrugge quello che Hayek chiama il costruttivismo ve l'ho già negato con molte letture cos'è questo costruttivismo è l'idea comune guardate bene comune spiace nel mondo della politica guardate bene è comune che tutti i fatti sociali e tutte le istituzioni nella genesi e nel mutamento sono frutti dei piani intenzionali ripeto il costruttivismo è un'idea comune in tutti noi ma soprattutto appunto comune in politica ecco che tutti i fatti sociali guardate bene tutte le istituzioni nella genesi e nel mutamento sono frutti di eseri di piani intenzionali c'è questa ragione umana che fa questi piani stabilisce i fini pone i mezzi e ottiene le cose ora se è vero quello che dicevamo prima se è vero appunto che le azioni umane intenzionali guardate bene lo ripeto per ragioni logiche ecco producono necessariamente conseguenze inintenzionali allora l'idea costruttivistica viene meno viene devastata perché perché tu non puoi più dire guardate bene che tutti gli eventi sociali ecco vengono prodotti da progetti certo vengono prodotti da azioni umane sono azioni umane ma non progetti umani ma non progetti umani cioè questa è una cosa molto importante e tutte queste conseguenze intenzionali sono quelle che accettiamo come buone e quelle che sono cattive perché guardate bene anche la mafia è una cosa che sorge spontanea non è che lo Stato diciamo così o anche Hitler sono fatti spontanei se sono vere queste cose qua questa inevitabile emergenza delle conseguenze intenzionali allora è chiaro che viene distrutto il costruttivismo cioè questa idea di fondo comune guardate bene comune dico bene ma sarà comune penso abbastanza ecco secondo cui tutti gli eventi sociali tutte istituzioni sociali genesi e mutamento vengono appunto prodotti da progetti intenzionali ora se è vero quello che diciamo prima è chiaro che questa idea non funziona ma guardate bene qui viene fuori una cascata di altre conseguenze perché la distruzione del costruttivismo elimina quello che Popper che prima David Katz chiamano lo psicologismo cioè l'idea che le scienze sociali tu storico tu economista ecco devi essere uno psicologo quindi psicanalisi della guerra l'economia l'abilità la guerra l'aggressione cioè se tu non sei uno psicologo questa è l'idea a chiesa molto comune ecco se tu non sei uno psicologo non puoi fare lo storico caro Carlo ecco nemmeno delle idee allora siccome però le azioni intenzionali producono conseguenze inintenzionali la psicologia che ha a che fare con il mondo delle intenzioni non può catturare tutto quel mondo là il mondo delle conseguenze intenzionali è fuori quindi in questo caso ecco dicono questi autori austriaci viene fondata l'autonomia delle scienze sociali della sociografia e della sociologia perché l'autonomia dalla psicologia quindi distruzione del costitivismo inconsistenza del costitivismo contro lo psicologismo ma viene fuori un'altra importante idea perché voi sapete che c'è quella che si chiama la teoria questa cospirazione di teori la teoria cospiratoria della società cioè la teoria che siccome tutti gli eventi sociali sono a frutto di piani intenzionali allora è chiaro che se viene fuori una cosa di cattivo di brutto una è una pestilenza devo dire una guerra una siccità qualsiasi cosa di negativo c'è qualcuno che ha congiurato perché è chiaro se tutti gli eventi sociali sono a frutto di eventi intenzionali gli eventi sociali negativi sono a frutto di brutti cospiratori quindi se ne saranno i saggi di Sibio o di Sion saranno i capitalisti saranno andate a volte i comunisti avete visto questi giorni dei giornali tutti i complotti voi aprite il giornale la mattina e se i quattro complotti sono indicati i quattro complotti quello che si chiama la dietrologia diciamo così ora è chiaro che le cospirazioni ci sono state ci sono ci saranno ma non tutti gli eventi sociali negativi sono a frutto di cospirazioni questo credo che sia ecco non so quanto debbo mi dare allora se tutte queste cose qual è il compito dello scienziato sociale secondo Popper e Ben Greiletto ecco è l'analisi Merton ha fatto il famoso articolo sulle conseguenze non anticipate è l'analisi dicono questi signori qua delle conseguenze inintenzionali dell'azione umana intenzionale e Hael che dice che l'analisi delle conseguenze inintenzionali dell'azione umana intenzionale è il compito esclusivo delle scienze sociali allora io ci sono tre cose da dire ma non voglio prendere molto più tempo però una cosa mi permetterei di dirlo perché se queste cose qua che tiriamo fuori da questa tradizione di pensiero individualistico diciamo credo che sia una cosa molto importante perché ridà sangue empirico alle scienze sociali ridà sangue empirico alle scienze sociali questa è una cosa importante perché sai tra soldarsi lì con la sociografia delle grandi epoche l'età della quella della fisica quella scientifica progresso cioè Saint-Simon Conte Mars strutturalisti cioè io credo che sia veramente per carità sono cose interessantissime si può apprendere però voglio dire è qui è una specie di mitologia insomma non è una cosa allora vi dicevo perché questo credo io che sia una cosa importante sono abbastanza avanti negli anni e ho partecipato anche a battaglia di problema non so ho conosciuto illustri storici illustri bravi storici i quali durante la battaglia sul problema dei libri di storia hanno sostenuto che la sociografia non può essere scienza io spero che voi eh se ti riusciamo a dire ma per riguardare la sociografia non può essere scienza e poi c'è questo problema grosso tra le due culture tra le due culture ecco allora per cui con conseguenze gravissime va bene nella didattica perché bisogna insegnare le scienze le scienze sì e poi ci sono queste discipline umanistiche sì la storia dell'arte filosofia eccetera questa è una roba ornamentale diciamo così non questa ornamentale con le percorsioni gravissime sulla scuola ora io eh vorrei vedere questo discorso sull'individuo metodologico dal punto di vista epistemologico io credo che sia un contributo a quello che è veramente l'unità del metodo scientifico cioè dobbiamo essere convinti ormai io credo che abbiamo molti argomenti ed è una cosa che io sono disposto oggi a difendere questa idea qua quando noi facciamo ricerca scientifica voi giovani fate la vostra tesi di dottorato la ricerca scientifica consiste sempre nell'intentativo di risolvere qualche problema ricerca di soluzione di problemi diciamo così questo vale per la sociografia per l'economia la fisica la biologia eccetera e per risolvere i problemi non possiamo fare altro semplificare le cose che inventare dei mondi possibili delle congetture da mettere a prova e quando noi proviamo una teoria non possiamo fare altro che la prova nella vita come nella scienza sia dove si rischia di fare fallimento per cui ecco problemi congetture tentativi di falsificazione di una teoria e voi capite che prima noi scopriamo un errore e prima appunto la comunità scientifica è posta nell'urgenza di inventare e mettere a prova una teoria migliore perché diceva Popper che evitare l'errore è un ideale meschino se noi ci confrontiamo ad un problema difficile è facile che sbaglieremo la cosa importante è apprendere dai nostri valori tra che ancora Popper razionale non è un uomo che vuole avere ragione ma un uomo che vuole imparare imparare dai propri errori e da quegli altrui allora voi mi direte adesso come si fa dico io a sostenere che discipline umanistiche dopo quello che è stato fatto da adesso da Gadamer ma da filologi che hanno scritto di epistemologia come Herman Frenkel Paul Maas o Giorgio Pasquali o quello che ha scritto appunto Salvemini contro croce sulla storia come scienza come si fa a dire che queste discipline appunto umanistiche diciamo così ecco non sono scienza o sono cose ornamentali prima diciamo venendo qua in corridoio anche ultimamente diciamo così anche poco giorni fa è stato detto che la filosofia non doveva essere insegnata nei corsi di laurea le scienze della formazione deve essere dividita nei licei guardate bene i momenti in cui la filosofia scoprono dappertutto voi pensate io ho bazzicato molto le facoltà di medicina le facoltà di medicina voi pensate diciamo così questa medicina occidentale che è assalita da tutte le parti da queste medicine alternative la iurupetica adesso ho visto che hanno approvato tra le medicine riembrossabili la meopatia ora veramente scusate io sono stato incominato nazionale di bioetica diceva la meopatia è certamente acqua acqua distillata ah dice ma c'è l'effetto plagemo allora qui c'è una mia piccola giovane paesana che ha la filosofia qui tu sai Beatrice che a San Gemini c'era un po' di anni fa San Gemini c'è un certo Armandino lo sai no? Armandino che San Gemini è un grande mago è uno che ha colore l'acciaieria ed è un grande mago dico bene Beatrice un grande mago ora siccome questi c'è una fila altro che le delle che all'ospedale c'era una fila d'Armandino bene allora dicevo io siccome anche Armandino ecco fa effetto placebo cioè plaga fa star meglio lo paghiamo anche lui cioè voi capite sono problemi epistemologici che poi si ripercuotono appunto ecco anche nel campo della in ogni caso quello che volevo dire è questo noi oggi dopo quello che è successo con di letteratura dopo il famoso articolo di Hempel sulla funzione generale della sociografia dopo quello che hanno fatto appunto i filologi dopo quello che hanno fatto gli storici dell'Annal e dopo quello che ha fatto Gathammer noi dobbiamo essere orgogliosi del fatto guardate bene che le discipline umanistiche sono discipline tali e quali la fisica San Gemini guardate bene è bellissimo lo storico è come un fisico usa il medesimo metodo il metodo è lo stesso sono diverse le metodiche cioè le tecniche di prova e allora perché dico questo perché ecco anche lì il fatto che la disciplina umanistica è l'ermeneuta l'interprete lo storico che interpreta da una traccia lo storico delle idee che guarda un documento lo storico è un ermeneuta e io vi chiedo è l'ermeneuta cioè è quello che applica il ciclo ermeneutico non lavora come il fisico ormai questa cosa è ormai diffusa e qui finisco cosa dice Gadamer l'interprete l'interprete che va davanti a un testo nel senso tecnico cioè un pezzo di Bibbia una rapide romana un papillo greco cioè l'interprete che va davanti a un testo nel senso lato cioè legge un giornale il gesto di un amico un manifesto cosa del genere non ci va con Tabu da Rasa ma ci va con il suo forfestentis la sua precomprensione e butta una prima e butta appunto una prima interpretazione di questo testo o di questo segnale diciamo mentre io parlo voi mi interpretate ma anche io vi interpreto io vi guardo se siete interessati disgustati annoiati se avete fame se mi dovete smettere anche io vi interpreto usciamo fuori diciamo un giornale diciamo sentiamo la frase voi di Altini interpretiamo e poi siamo intendere e fra intendere ma cosa facciamo dice Gadamer quando noi interpretiamo davanti a un testo in senso tecnico o in senso lato noi poniamo un'interpretazione e cosa facciamo poi mettiamo al baglio dice Gadamer questa interpretazione sul testo e sul contesto e se un pezzo di testo e contesto urtono contro questa interpretazione devo cambiare l'interpretazione e questo è quello che si chiama il circolo remeneutico cioè congettura e computazioni la stessa cosa e tra volte il filologo è molto più pericoloso di un fisico addirittura una remissura molto più pericoloso allora voglio dire tutto questo credo che sia una cosa molto importante oggi che queste discipline umanistiche vengono sempre sottovalutate ci sono quattro soldi indubbiamente questi quattro soldi si danno appunto a quelle che si chiama la ricerca applicata ora indubbiamente la ricerca applicata va fatta perché un'economia senza sottati appunto non funziona però guardate bene che la ricerca applicata senza ricerca pura anche essa non funziona diceva Hans Albert niente di vita più pratico che una buona teoria e vorrei leggervi una cosa Hans Albert niente di vita più pratico che una buona teoria guardate bene nel 1854 ho ancora due minuti sì due minuti sì Pasteur tiene il discorso inaugurale quale decano della nuova facoltà di scienza di Lilla e rivolgendosi a un corpo di studenti figli di industriali guardate bene ecco sembra stiamo il discorso che si faceva stamattina figli di industriali disse senza una teoria disse Pasteur la pratica è sottoroutin generata dall'abitudine la teoria soltanto può promuovere e sviluppare lo spirito di invenzione e a voi in particolare a modo che aspettate il compito di ricettare l'opinione di quelle menti anguste che nella scienza disprezzano tutto ciò che non ha applicazione studiata e da parte del suo Einstein nel 1945 scrive che la scienza non può venire organizzata nel modo in cui lo sono certe grandi società industriali aggiungeva si può organizzare l'applicazione delle scoperte già fatte ma non il processo che ne permette anche una sola soltanto un individuo libero può fare una scoperta potete immaginare un'organizzazione di scienziati che faccia le scoperte appunto di Darwin e quando Langmuir il premio 9 per la fisica e per la chimica divenne direttore dei laboratori della General Electric Company definì solo a grandi linee le aspettative nei confronti dello staff e le sue dipendenze abbandonando le attività finalizzate e le ricerche specifiche ora vi ripeto ricerca applicata ricerca sicuramente pura ma io vi consiglio se non l'avete fatto ancora per i giovani di leggere questi ultimi testi che ha fatto la Martha Nussbaum non per profitto perché le democrazie hanno bisogno di discipline umanistiche e io credo che porto un solo esempio e poi ve la smetto si possono fare discorsi sulla tradizione indubbiamente storica perché senza avere consapevolezza di chi siamo noi anche il confronto con gli altri in un mondo globalizzato non può essere fatto è chiaro possiamo correggersi ma dobbiamo sapere chi siamo questo è chiaro dico bene Carlo guardate io sono stato esterefatto rimasto esterefatto di punto al fatto che i dati dell'Oxepisa dimostrano che i nostri ragazzi di 14-15 anni sono sotto la media europea nella comprensione di un testo ora comprensione di un testo significa anche comprensione di un discorso di un discorso della televisione comprensione di un politico di un discorso economico cioè veramente qui siamo veramente e allora voi capite di fronte a un mondo di cose di informazioni che vengono da tutte le parti il problema di avere una mente critica capace di selezionare queste cose è la cosa più importante anche per una democrazia e allora ecco dico io se è vero quello che dice Popper è quello che dice Gattamere e non solo loro allora è chiaro che per esempio nei nostri licei scientifici l'unico lavoro scientifico è stata la versione di latino eh sì il tema argomentativo no? inabolito il riassunto ma il riassunto veramente è il lavoro ermeneutico il riassunto che non viene più fatto ma stiamo scherzando veramente la versione di latino di greco è l'unico perché tu impari la matematica non che fai impari la forma di second grado e poi vai a fare l'esercizio no? tu impari senza sapere perché e poi l'esercizio si esegue il problema si risolve e quando tu c'hai la versione di latino la indopenderò azzeccherò o non azzeccherò la versione di latino e tu c'avevi l'angoscia andavi là e se il maestro non ti dava il titolo della versione e tu eri inquieto se c'era il titolo sarei già meglio perché cosa era il titolo è l'ipotesi è la congettura su quello che il testo dice quando tu andavi avanti e poi c'era il momento di grazia ho capito cosa ho capito si trattava di una battaglia di una vita ad un personaggio di un viaggio di l'iscia che fanno l'azione davanti al tribunale greco eccetera eccetera ecco una volta capito tu metti tutti i pezzi dentro a quella congettura a quell'ipotesi tutti i pezzi andavi a cercare su rocci la quarta attenzione del bevo la quinta dell'avverbio la frase idiomatica lasciavi un buco un altro buco un altro buco e se per caso c'erano tanti buchi dici al compagno di banco ma di che tratta cioè cercare un'altra congettura come fa il fisico e come fa il biologo allora ecco penso io che un convegno del genere credo che siano questi convegni di filosofia di questi argomenti filosofici siano molto importanti termino ancora con un'attenzione di Popo che diceva che le istituzioni sono come le fortezze resistono se è buona la guarnigione quindi penso che il compito importante di un'istituzione appunto come questa sia creare appunto delle buone guarnigioni grazie 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 a tutti